Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il famoso ballerino Giovanni Pernice, noto per la sua partecipazione a Strictly Come Dancing nel Regno Unito, ha deciso di unirsi al cast della versione italiana dello show, Ballando con le stelle, formando coppia con Bianca Guaccero. Tuttavia, la sua reputazione è stata messa in discussione a seguito delle accuse mosse dalla sua recente partner, l'attrice Amanda Abbington, durante le prove dello show. Abbington ha denunciato comportamenti crudeli e cattivi da parte di Pernice, portando la questione all'attenzione del pubblico e delle autorità competenti. Nonostante le accuse, Pernice ha respinto categoricamente ogni insinuazione, ricevendo il sostegno di diversi colleghi e concorrenti. La situazione ha generato un forte eco nel Regno Unito, con Abbington, che ha addirittura coinvolto la BBC nelle sue lamentele, sospettando che l'emittente stesse proteggendo Pernice durante le indagini. Nonostante la controversia, Pernice ha continuato a difendere il suo nome e la sua integrità, sottolineando il suo impegno nel prevenire che altri debbano affrontare situazioni simili. Il ballerino ha una lunga esperienza in programmi di ballo, avendo partecipato a nove edizioni di Strictly Come Dancing e trionfato una volta con l'attrice sorda Rose Eiling Ellis. La vicenda ha scosso il mondo dello spettacolo e ha sollevato importanti questioni sulle dinamiche di potere e comportamento nei programmi televisivi. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se le accuse mosse contro Pernice verranno confermate.